Questa meraviglia di cucciola si chiama Ella, arrivata a tre mesi e proposta per la prima volta in adozione nonostante fosse qui in canile da quando aveva 30 giorni. Lei è nata in campagna da mamma Randagia assieme ad altri sei fratelli e purtroppo lì non poteva rimanere perché passavano le macchine e i cuccioli cominciavano ad attraversare. Così è entrata in canile con la mamma e gli altri fratellini. Cos'è successo a questi cuccioli? Perché li proponiamo soltanto adesso? Perché chi li accudiva insieme a noi in campagna ne desiderava uno. C'erano quattro persone circa che dovevano venire a scegliere e noi per rispetto a queste persone abbiamo atteso a proporre i cuccioli su internet. Passavano i giorni e loro non si presentavano. Sono trascorsi quasi due mesi e noi nel frattempo certo avevamo tanti altri cuccioli a cui dedicarci, da mettere in adozione, da fotografare e da filmare. Speravamo nel loro arrivo ma niente. Questo succede con le adozioni locali, è inutile dirlo. Adesso non perdiamo più tempo, li proponiamo tutti quanti ed ella è una delle due femminucce meravigliosa. Guardatela, i suoi occhi sono nocciola bellissimi. I colori veramente meravigliosi, tre colori, fondo bianco, macchie nere sul dorso e viso marroncino. Adottatela perché è veramente uno splendore di cucciola e non diventa grande, è una taglia media come i cani da caccia. Buona fortuna piccola Ella, sei meravigliosa. Ciao.